Signor Presidente, la legge di bilancio di fatto è la trasposizione infatti della visione politica delle forze che sono sedute qui dentro. E il fatto che i nostri colleghi che hanno dedicato la vita alla battaglia per le persone con disabilità, penso alla collega Versace, penso alla collega Noia, siano qui a parlare del fallimento di questa legge di bilancio dimostra la vostra totale incomprensione del fenomeno, la totale insensibilità rispetto ai bisogni dei nostri concittadini con disabilità. E questo è il senso politico della decisione del collega Dall'Osso, guardate, non è soltanto un passaggio di gruppo, è che un collega che ha fatto di questa la battaglia di una vita ha stabilito che questa legge di bilancio è talmente insufficiente e indegna da costringerlo a passare non solo a un altro gruppo politico, ma a passare dalla maggioranza all'opposizione. Questo è il punto, questa non è soltanto una manovra che non esiste, non è soltanto una manovra che ci stanno facendo votare senza che esista una manovra che non esiste. Grazie Presidente, abbiamo già avuto modo di illustrare come le richieste vadano tutte in una direzione, quelle di aumentare.